Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, in apertura c'è la cronaca con gli aggiornamenti che arrivano dalle operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato ieri mattina in Carnia tra i comuni di Tolmezzo e Damaro, in località Pissebu, sono riprese all'alba le attività da parte dei vigili del fuoco, del personale dell'antincendio boschivo e della protezione civile e del corpo forestale. Per quanto riguarda gli interventi sono attesi oggi anche i supporti del Sikorsky, l'elicottero del corpo dei vigili del fuoco che andrà a supportare l'attività del Canadair rientrato da Genova dopo la serie di azioni di spegnimento effettuate ieri. Il personale del gruppo operativo speciale dei vigili del fuoco di Udine con i mezzi per il movimento terra è impegnato nella realizzazione di uno scavo sul fiume Tagliamento per realizzare la vasca di raccolta dell'acqua che servirà proprio al rifornimento dell'elicottero Sikorsky. Ricordiamo che la strada ex provinciale del sasso tagliato che dato il mezzo porta ad Amaro rimane precauzionalmente chiusa all'altezza della galleria dopo l'ex polveriera anche per il rischio di caduta massi con l'intervento sul posto dei carabinieri e della polizia locale. All'origine del rogo potrebbe esserci la mano dolosa dell'uomo. Indagini sono in corso. Lungo la re interessata corre infatti un sentiero che è frequentato da diversi escursionisti locali. Sono quattro i focolai attualmente attivi sui quali si sta agendo dal cielo. Per quanto riguarda invece i controlli che sono scattati oggi in Friuli Venezia Giulia per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta arrivano i primi interventi da parte del personale delle volanti a Trieste che hanno sanzionato ieri sera poco prima delle 23 un 19enne serbo residente in città già noto alle forze dell'ordine che non aveva giustificato motivo per trovarsi in strada. Nel complesso durante la settimana la Polizia di Stato ha controllato l'intera provincia con 4.708 persone di cui 63 sono state sanzionate, 10 durante le ore di coprifuoco, 4 denunciati perché hanno abbandonato l'isolamento fiduciario e una persona per false attestazioni. Controllate anche 357 attività ed esercizi commerciali, ne sono stati sanzionati due in particolare. Un locale è stato chiuso per tre giorni. A Pordenone invece un uomo di 73 anni, cittadino albanese residente a Vaionte, è stato arrestato perché deve spiare una condanna a due anni e un mese di reclusione per spaccio di cocaina. L'ordine di esecuzione deriva dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. L'uomo nel novembre 2018 è rimasto coinvolto in un'attività investigativa finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nel proseguo dell'operazione è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 300 g di cocaina purissima e 100 g di sostanza da taglio. Dicevamo dei controlli attivati in tutto il Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle normative anti-Covid sorvegliate speciali anche le località balneari del nostro territorio. Noi siamo in collegamento con Matteo Polo, vice sindaco di Grado che sicuramente è pronto assieme ai colleghi a gestire un fine settimana che potrebbe portare diverse persone nell'Isola del Sole. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo in un weekend delicato in cui vorremmo essere già riaperti al flusso turistico ma non possiamo ancora purtroppo permettercelo. Quindi da parte anche degli operatori c'è un po' di amarezza per questa Pasqua ancora in lockdown ma anche una buona aspettativa, un cauto ottimismo per quello che sarà la stagione turistica che ormai è alle porte. Quindi speriamo di piegare la curva. A grado i contagi sono scesi e di molto rispetto alle scorse settimane. Abbiamo sofferto davvero come comunità questa terza ondata del covid ma adesso la curva si sta abbassando e siamo ottimisti insomma per l'estate. A proposito di questa situazione di gestione dell'epidemia e anche del percorso di vaccinazioni, Grado in particolare attende anche l'attivazione promessa di un centro vaccinale in loco. Sì abbiamo in qualche modo sollecitato la direzione sanitaria della nostra azienda locale ad attivare anche a Grado in quanto realtà periferica del territorio della provincia di Gorizia perché siamo un'isola molto nella cintura estrema diciamo così della provincia di Gorizia. Abbiamo una popolazione molto anziana e quindi a favore insomma di questa popolazione che avrebbe anche notevole difficoltà nello spostamento siamo andati a sollecitare un'apertura tempestiva. Nel farlo abbiamo messo a disposizione le sedi comunali, noi abbiamo un palazzo dei congressi, abbiamo un palazzetto dello sport che in questo momento sono inutilizzati, abbiamo messo a disposizione del sistema sanitario regionale le nostre strutture. Per quanto riguarda invece la gestione di queste giornate, la collaborazione immagino da parte della polizia locale alle altre forze di polizia per presidiare gli accessi all'isola. Sì ma permettetemi anche da qui ci date sempre un buono spazio per ringraziare le forze dell'ordine che comunque durante tutta la pandemia hanno collaborato sul territorio del comune di Grado. C'è veramente una collaborazione sinergica tra la polizia municipale, i carabinieri della stazione locale, tutte le altre forze di polizia, la prefettura, insomma anche questi weekend sarà una situazione molto controllata. Mi auguro che le persone come hanno fatto fino adesso sull'isola di Grado continuino a rispettare il distanziamento sociale perché ovviamente dicevo la curva è piegata ma non è ancora finita la battaglia al Covid. Quindi bisogna tenere ancora alta l'attenzione per salvaguardare appunto la stagione estiva. I controlli comunque sono schierati, il Ministero dell'Interno è stato anche insomma abbastanza fermo nel schierare le forze dell'ordine a sostegno dei territori e quindi noi ci sentiamo di essere insomma rassicurati da queste misure messe in campo. Parlava il Vice Sindaco della stagione turistica estiva che solitamente per Grado si apre a maggio, ecco che aspettative avete e che segnali avete proprio sul fronte delle prenotazioni? Sappiamo che c'è una grande richiesta per esempio di seconde case e non solo anche di posti in albergo, quindi c'è la volontà di venire a trascorrere diverse settimane. Sì, come l'altro anno l'aspettativa è che poi quando la situazione si sblocca e il governo ci darà una data per la ipotetica riapertura, per la ripartenza della stagione estiva e che poi le cose vadano discretamente bene, insomma ci sentiamo di essere ottimisti e certo è la seconda Pasqua che perdiamo, per noi la Pasqua è un periodo molto importante, abbiamo la prima diciamo così calata dei turisti austriaci, anche in particolare anche dei nostri corregionali, è un momento insomma in cui si lavora parecchio, un momento in cui la località ritrova i suoi ospiti abituali e quindi è un vero peccato averla persa, invece per quanto riguarda la stagione mi sento di dire che insomma c'è del cauto ottimismo e tanta voglia di rimettersi in gioco dopo questi periodi di stop forzato. La località si sta preparando, appena sarà possibile, sarà pronta l'ordinanza balneare e la stagione vera e propria potrà iniziare. Grazie, grazie, buon lavoro dunque a tutta la comunità di Grado e al Vincenzo Matteo Polo. Noi continuiamo rimanendo in ambito pasquale perché naturalmente con le restrizioni da zona rossa alle quale è soggetto l'intero paese, non solo la nostra regione pur con qualche deroga per quanto riguarda la visita a parenti in queste giornate fino a lunedì dell'Angelo c'è anche la necessità di riorganizzare un po' gli aspetti familiari con le tradizionali grigliate che salteranno e quindi si cerca insomma di condensare gli appuntamenti in famiglia a tavola a pranzo. Siamo andati stamattina al mercato in città Udine per capire che cosa stanno preparando gli udinesi per queste due giornate. Un po' di pesce al forno, un risotto con i gamberi, gli asparagi e poi vedremo. Come dolce una crostata alla ricotta. Il solito menù, sì, pasta al forno o quelle cose lì. Insomma non è proprio il solito, allora pasta al forno e poi? Non lo so, un arrosto di vitello. Sono invitata. Oddio il mio menù di Pasqua, il mio menù di Pasqua sarà stato uno sformato di asparagi e poi siccome noi non mangiamo carne penso un bel pesce con un contorno e una torta fatta in casa. Non lo so, mi vuole la cucina. Faccio una pasta con le mazzancolle, poi abbiamo preso il pesce spada, poi come antipasto ho preso le capessante e poi facciamo una bella torta. Fa tutto lei? Faccio io ma mi aiuta anche mia nuora. Fa un modo per stare insieme? Certo, certo. Prepareremo sicuramente l'agnello, abbiamo gli asparagi e poi a Pasquetta un po' di pesce. L'agnello ha una bella preparazione da fare a casa? Esatto, ha una bella marinatura con la menta e un po' di alloro, lo lasciamo cuocere per un tre orette al forno e viene fuori spettacolare. No, non me lo chieda perché non lo so. Devo ancora decidere. Sì. Con gli asparagi e pollo in padella croccante, insomma un po' tipo fritto, una cosa così. Gli asparagi non possono mancare? No, no dai, almeno quelli il giorno di Pasqua non facciamoci di mancare le fragole. E poi ci sono le celebrazioni religiose. Ieri c'è stata la tradizionale benedizione con la via Crucis del Venerdì Santo a San Pietro a Roma, con il Pontefice che ha chiuso con la benedizione appunto senza pronunciare un discorso naturalmente nel rispetto delle normative anti-Covid. Preghiamo. Signore Padre Buono, infondi in noi il tuo Spirito Santo e donaci la tua fortezza, perché solo così avremo il coraggio di testimoniare la tua verità, che è via di giustizia e riconciliazione. per Cristo nostro Signore. Signore Padre Buono, che hai mandato a noi Gesù obbediente fino alla morte, donaci la forza del tuo amore per prendere coraggiosamente la nostra croce. Donaci la tua speranza e sapremo riconoscerti anche nei momenti più bui della nostra vita. Signore Padre Buono, come! Panem nostrum quotidianum da nomi sodie, et dimite nomis debita nostra, sicut et nos dimittimus diritoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amal. Amen. A me te bunti e fle. 113 nuovi positivi a fronte di 10.227 tamponi effettuati per un rapporto che è sceso al 5%, uno dei dati più bassi degli ultimi due mesi. Le terapie intensive rimangono invariate, 81, calano di 18 unità i ricoveri negli altri reparti e scendono anche di quasi 500 gli isolamenti domiciliari a 13.589. Le vittime sono state 16 che portano il totale a 3.338. Sul fronte italiano invece numeri comunque ancora molto alti, sono stati 21.932 i contagi di ieri, 481 le vittime. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono 565.295 i miglioramenti li ha rilevati ieri anche l'Istituto Superiore di Sanità e il referente del Ministero della Salute, il dottor Rezza, nell'analisi settimanale. Andiamo ad ascoltare un passaggio del suo intervento. Sì, mi sembra che la situazione sia in leggero miglioramento, quindi i dati ci dicono questo, però l'RT è ancora intorno a 1, perché 0,98 sostanzialmente è 1, quindi vuol dire che se abbiamo un certo numero di infetti questi ne riproducono altrettanti. L'altro punto è che l'incidenza è in lieve diminuzione, però rimane molto elevata, perché siamo intorno a 233.000, quindi non lontani da 250.000, con limite veramente elevato, e ben al di sopra del 50.000 che costituirebbe il margine di sicurezza. Soprattutto vediamo i risultati, le conseguenze dell'effetto accumulo delle infezioni che abbiamo avute nelle scorse settimane, perché sostanzialmente abbiamo un 41% di tasso di occupazione di posti in terapia intensiva. Questo è elevatissimo, perché la soglia del tasso di occupazione di terapia intensiva è quella del 30%, al di sopra del 30% siamo ben al di sopra della soglia critica, quindi 41% vuol dire che prima che riusciamo a deflazionare le terapie intensive, purtroppo passerà un po' di tempo. Abbiamo anche un 44% di occupazione di posti di area medica, quindi al di sopra della soglia critica del 40%, che tende ancora un po' a crescere. Quindi ci sono dei segnali che ci dicono, da una parte la trasmissione sta leggermente diminuendo nella comunità, dall'altra però il carico sulle strutture sanitarie rischia di essere ancora elevato per un tempo redaggivamente lungo. Questo purtroppo non è molto rassicurante. In attesa di segnali, in vista di nuove riaperture, continuano le prese di posizioni da parte delle associazioni di categoria, il caso della CGA di Mestre, che torna a denunciare le difficoltà di un lavoro nero che crescerà sicuramente. In questo 2021 la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450 mila posti di lavoro, con le chiusure imposte a tanti di questi disoccupati. Si sono aggiunti molti addetti del settore alberghiero e della ristorazione e altrettante finte parrucchiere ed estetiste che quotidianamente si recano nelle case degli italiani ad esercitare irregolarmente i servizi e le prestazioni più disparate. Ascoltiamo l'intervento del segretario della CGA di Mestre, Zabeo. Nelle zone rosse stanno dilagando i lavoratori nero che si recano nelle case degli italiani per realizzare piccoli lavoretti o servizi alla persona. E nel frattempo il virus ringrazia perché in un salone di parrucchiere, ad esempio, è più difficile contagiarsi rispetto a un'abitazione privata dove un abusivo si presta a fare un taglio o una messa in piega. Pertanto, dove è possibile, bisogna riaprire le attività momentaneamente chiuse perché, a differenza delle abitazioni private, sono più sicure, più protette e più controllabili. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Il video che l'Arle fa realizzato in questa occasione, anzi no, abbiamo Jacopo. Allora andiamo da lui per tutti gli ultimi aggiornamenti rispetto alla sfida di campionato di questo pomeriggio, ore 15, a Bergamo, Atalanta Udinese. Ben ritrovato, Jacopo. Ciao, ciao, ben trovato David, ben trovati ai nostri telespettatori. Però questo importantissimo anniversario sicuramente potrà essere una molla, no, a dare una spinta, a dare un qualcosa in più anche per l'Udinese, per cogliere il risultato positivo questo pomeriggio alle ore 15 al Gewiss Stadium. Come l'Udinese arriva a questa partita? Arriva al termine di una sosta nazionale anomala in positivo perché ha visto soltanto due bianconeri, Nestorovski è rientrato anche anticipatamente, Striger andare in nazionale. Questo può essere un fattore, come ha analizzato anche ieri in sede di vigilia con Luca Gotti, che potrebbe eventualmente dare un piccolo vantaggio all'Udinese. Però c'è da capire anche quali carte andrà ad utilizzare dall'altra parte Gasperini, perché sappiamo del cluster che si è generato nel gruppo squadra nazionale italiana. Sono negativi e quindi convocati sia Toloi che Pessina, ma è da capire se Gasperini li schiererà dal primo minuto. Il fatto sta che c'è da tenere le antenne ben dritte perché l'Atalanta si dovrebbe presentare con la coppia dei due grandi ex di giornata, Muriel e Duvanzapata, che festeggia anche il compleanno, insomma in grande spolvero. Quindi attenzione a questi due che da ex ai noi ci hanno spesso e volentieri fatto male, Muriel ha dato a segno anche nella gara d'andata recuperata nello scorso gennaio. Guardando in caso Udinese, che è ciò che conta, adesso la squadra si sta godendo gli ultimi minuti, l'ultima ora di riposo, perché tra poco ci sarà il pranzo, tra poco più di un'ora e poi dopo si entra già pienamente in quello che sarà il clima partita. La riunione tecnica è prevista alle ore 13, lì Gotti svelerà anche ai calciatori stessi quelle che saranno le scelte di formazione che noi proviamo come sempre un po' a decodificare, anche se spesso e volentieri con il mister è difficile poi azzeccarci. Nel 3-5-2 sicuramente in difesa vedremo Bram Noiting, gli altri due posti se li gioca Bram Noiting e uno tra Bekao e Bonifazi, vediamo se ci saranno tutte e due o se tornerà dal primo minuto Samir che si è allenato tutta la settimana in gruppo dopo la lesione muscolare alla coscia. È rientrato Weijan ma lui partirà sicuramente dalla panchina, a sinistra dovrebbe esserci Siglar perché nonostante Strüger è apparso in palla a Luca Gotti, magari visti i tre impegni con la nazionale danese, il rientro solo nella giornata di giovedì, oggi è sabato, due giorni scarsi di recupero e di allenamento per lui, chissà che non possa accomodarsi in panchina. Attenzione anche a quello che può essere il centrocampo perché lì il vero nodo tutto ruota attorno alla posizione del Tuku Pereira, qualora fosse nuovamente rietrato in mediana, in attacco gli Orente Ocacca si giocano una maia da prima punta, ma al loro fianco ci sono tre uomini per un posto che sono Fernando Forestieri, rientrato e anche bene contro la Lazio, Ilian Estoroschi e occhio anche a Jaden Braff perché sappiamo che è un calciatore che a Luca Gotti piace tanto ed è in rampa di lancio. Queste sono le scelte di formazione con un ulteriore ballottaggio, quindi come vedi Davide ce n'è uno per reparto che riguarda il ruolo di mediano davanti alla difesa e anche lì Wallace e Arslan si contendono una maia, però magari anche per le sue caratteristiche fisiche contro una squadra che va molto si ritmi, molto anche sull'intensità, sulla forza, Wallace potrebbe essere leggermente favorito su Tolga e Arslan, comunque un'alternativa di lusso a partita in corso. A te. Grazie a Napoli-Crotone e Sassuolo-Parma. Alle 18 il derby di Torino tra Torino e Juventus, alle 20.45 chiuderà il turno Bologna-Inter. Per quanto riguarda la Serie B invece altra batosta per il Pordenone sconfitto ieri a Brescia 4-1, una sconfitta che ha portato all'ufficialità dell'esonero di mister Attilio Tesser. Vediamo la gara e poi approfondiamo il discorso esonero. Il Pordenone ritrova il gol perduto ma la squadra di Tesser non riesce ad invertire una rotta che si fa sempre più drammatica a Brescia. I neroverdi perdono 4-1 incappando nel quarto K.O. negli ultimi cinque match, il sesto negli ultimi otto numeri da incubo per una squadra. In caduta libera, il Brescia parte fortissimo e dopo un quarto d'ora è già in vantaggio. Per 2-0 il primo gol è un'autentica prudezza di Ndoi che da 20 metri fa partire un destro a giro imparabile che si insacca. L'incrocio dei pali, il raddoppio lo firma invece Cistana sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Bindi forse poteva fare qualcosa in più. Il Brescia domina ma il Pordenone con un lampo prova a riaprire i giochi vero di Ciuria in area per Musiolic che con un gran mancino di rabbia accorcia le distanze e sigla. L'1-2, gran gol del polacco che firma la sua quinta rete stagionale. Ma è solo una fiammata perché il Brescia torna subito a premere sull'acceleratore alla caccia. Del terzo gol ci prova Bisoli ma il suo tiro viene murato e poi al 39esimo arriva il 3-1 con un'altra gemma del solito Ndoi. L'italo-albanese realizza un gol fotocopia del precedente con un altro destra giro imparabile e così si va al riposo con il Brescia avanti di due reti. In avvio di ripresa il Pordenone prova a reagire e a farsi vedere con Ciuria prima e Zammarini poi ma entrambe le conclusioni terminano lontano dallo specchio della porta. Poi tocca di nuovo a Ciuria rendersi pericoloso ma il Fante aspetta troppo per calciare e si fa chiudere lo specchio da Joronen. I Ramarri nonostante la buona volontà non riescono a riaprire la gara con il Brescia che abbassa i ritmi e non rischia più di tanto. Anzi nel finale a segno ci vanno ancora le rondinelle che trovano il poker. Con Loboico finisce 4-1 per il Pordenone. È notte fonda, la zona play-out è sempre più vicina e il Covid adesso non può essere solo un alibi o la Tesser e è un passo dall'esonero. L'esonero è arrivato come dicevamo stamattina poco fa all'ufficialità. Il Pordenone Calcio ha comunicato di aver sollevato il suo allenatore dall'incarico di allenatore della prima squadra. Si deve prendere sempre la sua responsabilità, dichiarato il presidente Mauro Loviso, nei momenti positivi come in quelli negativi. Dover cambiare allenatore è una sconfitta per tutti, in primis per la società e chiaramente per me. Ma siamo arrivati a questa scelta, certamente non facile, per dare una scossa all'ambiente dopo un periodo troppo lungo senza risultati. Ringraziamo e ringrazieremo sempre a Tiglio per lo spessore umano e la professionalità dimostrata in ogni occasione. Insieme, aggiunge ancora Loviso, abbiamo fatto un percorso bellissimo, conquistato la storica promozione in B e Tesser, è stato importante nella nostra crescita. Da oggi, guardiamo avanti, non esistono scusanti o alibi per nessuno. Con il mister sono sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda, Mark Stukeli, e il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula, a cui vanno i ringraziamenti della società per la collaborazione in queste tre stagioni. E l'incarico, forse temporaneo o forse no, per la prossima sfida si giocherà già a Pasquetta nella gara interna contro Lentella. L'incarico della panchina dovrebbe essere affidato al mister della primavera, Maurizio Domizzi. Ora, il basket con l'Apu Old Wild West, che si è qualificata ieri alla semifinale di Coppa Italia di Serie 2. Vediamo anche il quadro per quanto riguarda le altre gare e l'incastro delle semifinali che si disputeranno quest'oggi. Alle ore 18 la sfida tra Napoli e Tortona, alle 20.45 l'Apu che incontrerà Scafati, che ieri ha superato Torino. E a proposito della sfida vinta ieri contro Forlì, andiamo a rivivere le emozioni del match con il nostro Lorenzo Pausa. Un finale sprint che vale un traguardo storico. È così che l'Apu Udine conquista il proprio primo pass per le semifinali di Coppa Italia, superando una corazzata della Serie 2 come l'Uni Euro Forlì. Una squadra, quella romagnola, che in campionato sta dominando il Girone Rosso, dove ha perso finora solo quattro partite, ma che nelle finale di Cervi è messa sotto da un Old Wild West che si dimostra squadra in salute in una fase calda, anzi caldissima, della stagione. La gara si sviluppa sul filo dell'equilibrio, nonostante l'iniziale allungo dei bianconeri trascinati da Fulland e vede prevalere l'applicazione delle due difese con conseguente ripercussione sul punteggio. Nell'ultimo quarto poi Forlì parte a razzo portandosi in un Amen dal 44 al 48 al 58 a 50, ma l'Apu come un pugile alle corde si rialza e piazza il colpo del KO. 17 a 4 di parziale negli ultimi 5 minuti con 5 marcatori diversi e vittoria in cassaforte. Oltre a Fulland, chirurgico nel pitturato con 6 su 7 da 2, la nota lieta della giornata è ritorno su alti standard da parte di Joseph Mobio, che realizza 11 punti e si mette definitivamente alle spalle l'infortunio alla caviglia, rimediato a marzo. Abbiamo giocato una buona partita oggi, innanzitutto abbiamo difeso molto bene, la palla è girata bene, eravamo tutti concentrati sul pezzo e penso che questa sia stata la chiave. Ma c'è spazio e gloria anche per i giovanissimi, 9 punti per il ventenne Schina, 4 minuti in campo per il classe 2000 Spangaro, rotazioni importanti alla luce del teorema del più si vince e più si gioca. Udi ne ha vinto e stasera alle 20.45 si torna già sul parquet. Di fronte c'è la Givova Scafati che ieri superato la Reale Mutuo a Torino per 84 a 76 e in palio c'è la finalissima di domenica contro la vincente tra Napoli e Tortona. Vi ricordiamo gli appuntamenti per quanto ci riguarda. Dalle 12 non ci sarà il Tg ma l'importante diretta della sfida tra Udinese e Primavera e la Sverona Primavera con la telecronaca in diretta. Dalle 14 dicevamo studio e stadio con Massimo Campazzo per seguire live Atalanta Udinese. L'informazione tornerà alle ore 19 con il nostro Tg, alle 20.30 del Tg Veneto, alle 21 studio e stadio commenti con Francesco Pezzella, Fulvio Colovati, Paolo Bargigia e i nostri opinionisti. Noi ci congediamo ora con la clip dedicata alla fiesta da patria e dal Friul, le previsioni del tempo e naturalmente a tutti l'augurio di una buona giornata. Mandi, papà, grazie. Mandi, stelle. Mandi? In ogni bando è dal monte, la nestra è aquile, non stensi in peridoglie. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeto per la giornata di sabato che vedrà un cambiamento del tempo, arrivare un po' più frizzantina sull'Italia e in Friuli Venezia Giulia sarà una tra le prime regioni a essere raggiunte da quest'aria più fredda. E così arriveranno anche degli acquazzoni, specie al mattino, che poi si allontaneranno rapidamente nel pomeriggio quando torneranno ampie schiarite. Entriamo più nel dettaglio, Udine e Pordenone, mattinata molto variabile e instabile con appunto qualche piovasco ma poi in rapido allontanamento, però a quel punto temperature che cominciano a perdere qualche grado e arriva anche parecchio vento. Anche tra Gorizia e Trieste al mattino avremo molta variabilità, poi situazioni in miglioramento dal pomeriggio ma insisterà il vento che ritroveremo poi anche nella giornata di Pasqua e che fa già calare un po' le temperature e vi anticipo a Pasqua valori ancora più bassini. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi durante questo lungo weekend scaricate l'app gratuita di Trebimeteo. Grazie 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 Grazie